Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Anna e anche oggi come tutti i martedì e tutti i sabati sono qua con voi con un nuovo video. Guardatelo fino alla fine perché lascio sempre dei titoli di libri che approfondiscono l'argomento e quest'oggi voglio parlarvi dei coniugi Fitzgerald perché poche coppie sono rimaste così nell'immaginario collettivo come Zelda e Scott Fitzgerald e loro sono rimasti nella nostra mente soprattutto con un'immagine di leggerezza, di dissolutezza perché di quel periodo dei primi del Novecento in cui spendevano tutti i loro soldi in feste, brindisi e divertimenti ma in realtà questa loro leggerezza era solamente una maschera di una infelicità ben più profonda. Ma andiamo con ordine perché i due si conoscono nel 1918 durante una festa, un ballo a Montgomery in Alabama. Zelda aveva solamente 18 anni e Scott aveva 22 anni ed era luogotenente di franteria. L'inizio quindi di questa loro relazione è caratterizzata dai regali che Scott fa a Zelda nonostante lui avesse poi deciso di trasferirsi a New York proprio perché aveva già ambizioni letterarie. E Zelda ricambiava questo amore col suo carattere volubile e capriccioso. Infatti le donne all'epoca non godevano di molte libertà ma Zelda sì, Zelda sì, se le prendeva tutte perché fumava più di un uomo, partecipava a dei balli che duravano anche tutta la notte, si ubriacava, dichiarava di aver baciato molti uomini, si vestiva anche da uomo e con le sue amiche guidava un tram. Non so questa cosa però l'ho trovata. Quindi Zelda con un carattere così peperino era circondata da molti uomini e molti pretendenti e avrebbe potuto scegliere chiunque le avesse voluto anche perché lei veniva da una famiglia aristocratica, suo padre era un giudice. Invece scelse Scott Fitzgerald probabilmente perché comunque lui permetteva al suo carattere così vivace e sbarazzino di continuare ad esistere, a manifestarsi, non le tarpava le ali come magari avrebbe dovuto fare sposando qualcun altro anche più benestante o meglio inserito nella società dove quindi bisognava adottare tutto uno stile di vita che lei non voleva assolutamente. E così Zelda e Scott si sposano il 3 aprile del 1920 nella cattedrale di St. Patrick a New York e pochi giorni prima, il 26 marzo, era uscito il primo romanzo di Scott Fitzgerald che è di qua dal paradiso, il quale aveva fatto molto successo e aveva permesso a Scott di entrare negli ambienti mondani dell'epoca. e infatti Fitzgerald lasciavano ricche mance al bar, avevano uno stile di vita molto dispendioso che si potevano permettere, oltre per i grandi guadagni di Fitzgerald con quel suo primo romanzo, anche perché loro chiedevano degli anticipi sui loro compensi. Infatti entrambi scrivevano su dei giornali e spesso gli articoli li firmavano anche insieme. Erano adorati dai loro amici, ne avevano molti e tant'è che Gerald Murphy, un artista, dopo una loro vacanza sulla Costa Azzurra scrive loro così, quando il vostro treno partì vi fu un gran rumore di lacerazione intorno a voi. Nel 1922 esce il secondo romanzo di Scott Fitzgerald, Belli e dannati, e c'è chi ha voluto vedere nei protagonisti di questo libro degli alter ego proprio di Zelda e Scott Fitzgerald, perché tutto il romanzo ruota attorno al valore della giovinezza, della gioventù e quindi i protagonisti arrivano a rimpiangere la giovinezza e il paese delle illusioni, della giovinezza, della pienezza della vita. Ma dopo questa prima fase di grande ricchezza, perché Scott Fitzgerald guadagnava 36 mila dollari l'anno contro i 1500 degli altri suoi colleghi scrittori, quindi guadagnava tantissimo. Però dopo questa prima fase di ricchezza, cominciarono anche dei litigi all'interno della coppia, perché i due si ubriacavano, si drogavano, sembra che si tradissero, sembra che anche si picchiassero, continuavano a indebitarsi e vennero anche denunciati più volte. Cioè loro in pratica avevano cominciato a tenere uno stile di vita che non erano più in grado di permettersi. E così nel 1924 si trasferiscono in Francia, ma lì la situazione tra la coppia non migliora perché continuano imperterriti nel loro stile di vita così borderline sia a Parigi, sia in Costa Azzurra, sia a Monte Carlo. Mentre scriveva Il grande Gatsby, che sarà poi pubblicato nel 1925, quindi l'anno dopo, Scott Fitzgerald diventa dipendente dall'alcol e soffre anche di insonnia. Infatti è per questi motivi che secondo la versione ufficiale Il grande Gatsby sarebbe stato iniziato 17 volte, ma secondo la versione di Scott Fitzgerald Il grande Gatsby sarebbe stato iniziato più di 100 volte. Praticamente non riusciva più a iniziare questo romanzo. Le liti con Zelda e i presunti tradimenti continuano e diventano sempre più frequenti. Durante l'estate del 1924 i due parlano spesso di divorzio, però durante un accesso di ira Scott decide di chiudere la moglie in camera della loro villa e in quel frangente per la prima volta Zelda tenterà il suicidio e Scott annoterà nei suoi tacquini. Sapevo che era successo qualcosa che non si sarebbe mai potuto riparare e così hanno deciso di allontanarsi dagli ambienti mondani, di allontanarsi dai loro amici e quelle poche volte in cui partecipavano a qualche ritrovo i due continuavano a battiveccare sotto lo stupore di tutti perché li ricordavano come una coppia molto allegra, molto affiatata e molto leggera. Secondo alcuni storici sarebbe stata Zelda vittima del genio e del narcisismo di suo marito Scott che le avrebbe anche tarpato le ali impedendole di scrivere o di pubblicare perché Zelda scriveva dei diari personali da cui il marito attingeva ma il marito non voleva rendere pubblici. Quindi secondo questi studiosi Zelda si sarebbe sentita soffocata nel suo talento e quindi questo carattere un po' dispotico del marito l'avrebbe condotta alla follia. Secondo altri storici invece è vero l'esatto opposto cioè che Scott Fitzgerald sarebbe stata una vittima del carattere evolubile e capriccioso della moglie che lo obbligava a pagare delle rette altissime nelle cliniche psichiatriche in cui lei poi è stata rinchiusa, curata per la sua diagnosi di malattia mentale. Infatti nel 1930 le verrà diagnosticata la schizofrenia. Dal 1926 poi la loro figlia Francis che loro chiamavano per gioco Scotty viene mandata a vivere da Harold Ober che era il prestigioso agente letterario di Scott Fitzgerald. Poiché il grande Gatsby non aveva venduto tutte le copie che loro speravano infatti mentre Scott Fitzgerald era in vita il grande Gatsby ha venduto solamente 15 copie cioè niente. Per mantenere quindi Zelda e la figlia Scotty Fitzgerald ha dovuto anche impiegarsi come scrittore di articoli, di racconti, insomma ha dovuto scrivere e scrivere e scrivere per cercare di guadagnare perché dopo il botto iniziale gli altri suoi romanti non hanno mai più guadagnato così. Quindi dopo la diagnosi della malattia mentale Zelda ha cominciato a passare dei periodi sempre più lunghi nelle varie cliniche psichiatriche e la lontananza dalla moglie fu un duro colpo per Scott Fitzgerald e che continuò quindi a bere sempre di più e sempre di più a sabotare la propria attività letteraria. Tant'è che quando deve essere pubblicato il romanzo Tenera e la notte nel 1934 Fitzgerald chiederà un parere all'amico Hemingway su quel romanzo ed Hemingway scriverà Mi piacerebbe fare due chiacchiere con te da sobrio. A New York puzzavi da matti e non ci abbiamo cavato niente. Vedi amico tu non sei un personaggio tragico, nemmeno io lo sono. Nessuno più di te aveva bisogno di disciplina per lavorare e invece ecco che ti sposi una che è invidiosa del tuo lavoro, che vuole competere con te e ti rovina. Quindi c'erano proprio delle visioni nette di questa coppia. O era colpa di Zelda o era colpa di Scott. La verità non stava nel mezzo qua. Ma nel 1929 Scott autorizza il primo ricovero psichiatrico di Zelda perché dopo un periodo sfrenato di amore per la danza, Zelda era caduta in un lungo periodo di depressione. Sembra che i due siano entrati in conflitto anche quando Zelda ha scritto il suo unico romanzo Lasciami l'ultimo Walzer nel 1932 mentre si trovava nella clinica psichiatrica del John Hawkins Hospital di Baltimore. Si trattava di un romanzo autobiografico che lei ha subito proposto all'editore Maxwell Perkins a New York e Scott quando l'ha saputo è andato su tutte le furie perché ha scritto in una lettera alla dottoressa della moglie. Dio mio, i miei libri hanno fatto di lei una leggenda e la sua sola intenzione con questo semiacquoso ritratto è di rendermi una nullità. Scott voleva impedire assolutamente alla moglie di esprimersi scrivendo, arrivando anche ad accusarla di plagio. Alla fine Zelda cede, si sottomette alla volontà del marito il quale revisionò di nuovo il dattilo scritto prima di inviarlo all'editore e Zelda scrive a Scott, Scott ti amo più di qualsiasi cosa al mondo e mi sento una miserabile per averti offeso, per favore amami, la vita è tanto confusa ma io ti amo. Così nell'ottobre del 1932 il libro esce in America ma è un flop pazzesco perché i critici la accusano di voler far strada sfruttando la notorietà del marito. Invece in Inghilterra dove uscirà 21 anni dopo nel 1953 il romanzo ha molto successo e la sua prosa viene considerata potente e memorabile. Oggigiorno, lasciami l'ultimo waltzer, viene considerato come un romanzo complementare a Tenera e la notte del marito Fitzgerald. L'unica ragione di vita di questi due scrittori è la loro figlia, Scotti e di fatti vi è una lettera del 1939 in cui Fitzgerald si dimostra molto preoccupato perché non riesce a trovare i soldi per pagare la retta del Bussar College che era una prestigiosissima università frequentata dalla figlia. Mi scrive infatti a Zelda, la tua vita è stata una delusione come anche la mia ma non abbiamo fatto tutta questa fatica per nulla, Scotti deve sopravvivere e questo è l'anno più importante della sua vita, sempre col più tenero amore perché infatti doveva dare la maturità. Zelda e Scott si lamentano che da quando la figlia, sì la maturità la laurea, se era all'università la laurea e dicevo che Zelda e Scott si lamentavano per il fatto che da quando la figlia era all'università non li calcolava più molto, si era molto distaccata da loro, però erano orgogliosissimi di lei perché poi ritagliavano gli articoli di giornale dove lei era stata intervistata da un giornale locale. Quindi nelle lettere che i due scrivono in questo periodo tutti i loro problemi con l'alcolismo o con i disturbi psichiatrici si dissolvono poi nelle preoccupazioni per la figlia Scotti. Scott, Fitzgerald e Zelda sono dipendenti l'uno dall'altro, il loro amore continua anche quando Fitzgerald si trasferisce a Hollywood e inizia una relazione con la giornalista Sheila Graham e infatti in quel periodo comunque Zelda gli scrive, ti amo moltissimo e tu mi hai telefonato, ho camminato su quei fili del telefono per due ore dopo aver preso in mano il tuo amore come un parasole per tenermi in equilibrio. E Scott diceva comunque della moglie, come sempre anche oggi mi sento più vicino a lei che a qualsiasi essere umano non mi dispiacerebbe se tra qualche anno Zelda e io potessimo rannicchiarci insieme sotto una pietra in qualche vecchio cimitero di queste parti. Nell'aprile del 1939, forse perché si sentiva in colpa per non riuscire a mandare più soldi alla moglie e per farle svolgere attività ricreative nella clinica psichiatrica in cui era in cura, Scott da ubriaco parte da Hollywood, vola fino al nord Carolina, si reca alla clinica psichiatrica della moglie e chiede che le venga lasciata diciamo una libera uscita, le viene accordata, questa libera uscita è stata accordata e i due vanno a farsi una vacanzina a Cuba, ma a Cuba nessuno dei due seguirà i dettami prescritti dal medico, quindi Zelda fuma, beve e Scott beve talmente tanto che a un certo punto Zelda lo deve riportare a casa e così lo riporta a New York e poi da sola si fa i 900 km che la separano dalla clinica psichiatrica e in seguito scriverà una lettera a Scott per dirgli quale bugia dovevano dire ai medici per accordarsi sulla menzogna da raccontare, quindi sarà stata pure schizofrenica, però quando voleva sapeva essere lucida, molto lucida e determinata, più del marito. A giugno dello stesso anno la figlia Scotti viene operata di appendicite, ma il padre non può certamente occuparsi della figlia perché è a letto a Hollywood con la tubercolosi per tutti gli eccessi che ha avuto a Cuba, nella vacanza a Cuba con la moglie e quindi Zelda si fa dare un altro permesso di uscita temporanea, prende una pensione davanti all'ospedale e cura la figlia mentre Scott manda a loro i soldi. Però il 21 dicembre del 1940 dopo aver avuto il suo secondo attacco di cuore, Scott Fitzgerald muore all'età di 44 anni lasciando in compiuto il suo ultimo romanzo, Aprite gli ultimi fuochi, perché ha scritto solamente i primi cinque capitoli. Zelda riesce ad ottenere un permesso, una dimissione permanente dalla clinica psichiatrica, ritorna a casa a vivere con la madre a Montgomery in Alabama, ma questa convivenza durerà comunque poco perché fu nuovamente internata nell'ospedale psichiatrico delle Highland di Asheville nel 1947 e morirà proprio in questa clinica in un incendio che divampò nella notte del 10 marzo 1948, quindi morì bruciata. Le sue spoglie vennero poi messe insieme a quelle del marito Scott nel cimitero della chiesa di St. Mary a Rockville nel Maryland. Forse nessuno dei due è riuscito a capire perché a un certo punto la loro vita si è andata così in discesa, soprattutto la loro vita di coppia. Però come scrive Pietro Citati nel romanzo la morte della farfalla, forse Zelda fu soltanto la bambina di Fitzgerald o forse non esistevano né forti né deboli, né bambini né adulti. Zelda e Fitzgerald erano troppo vicini, vicini come furono raramente due esseri umani. Erano la stessa persona con due cuori e due teste che si volgevano l'una verso l'altro, ma anche l'una contro l'altro, fino ad ardere in un unico ruogo. Il mio video è terminato, se voi avete delle cose da aggiungere riguardo a questa coppia scrivetele pure nei commenti e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao! Ciao!